Su Instagram saranno sempre esistiti e sempre ci saranno utenti tirannici o dittatoriali che impongono la loro volontà e scelte sbagliate sul loro account, come avere i commenti limitati o disattivati per evitare critiche pesanti verso la loro immagine. Grazie alla tremenda scelta dell'intelligenza artificiale di meta su Instagram, molti utenti stanno effettivamente lasciando la piattaforma. E non solo, Instagram potrebbe fallire se continua a supportare l'intelligenza artificiale. E di solito su Instagram si limitano i commenti per evitare commenti dei bot o per problemi gravi di salute mentale, che può essere usata anche come scusa per il brutto carattere. Ma a parte i capricci, cosa ne pensate che purtroppo esistono utenti bambinoni nei social che fanno di tutto e di più? La tirannia dittatoriale c'è anche su Facebook, TikTok e Twitter, ovvero X. Quindi fate attenzione. Ciao a tutti e buona giornata o serata.